Nel mirino di Caldoro ci sono sempre loro, De Mita e De Luca, che insieme tengono in scacco le aree interne. L'ex presidente della regione, in corsa come candidato governatore per il centrodestra, torna ad Avellino per presentare i candidati di Fratelli d'Italia e quelli della lista che porta il suo nome. I sondaggi danno De Luca in vantaggio per Caldoro, però la rimonta è già iniziata. Abbiamo recuperato oltre dieci punti in due settimane, quindi guardiamo chiaramente i sondaggi in questa direzione e quindi dobbiamo convincere e non avere atteggiamenti padronali come vuole fare il nostro avversario che pensa di venire in Irpinia e comandare con i salernitani, vedete che tenta di occupare ogni spa, avidamente vuole occupare l'Irpinia. Caldoro poi rivendica quanto fatto per l'Irpinia, soprattutto con i fondi per l'accelerazione della spesa e il piano strategico per le aree interne. Una scelta chiara, limpida, di centrodestra con un programma equilibrato che pensa a grandi e forti investimenti in Irpinia che merita soprattutto le aree interne, che hanno avuto con la mia amministrazione il grande progetto, come ricordate, dell'area interna, che è stata la prima grande iniziativa di sviluppo strategico per le aree interne da quando è nata la regione Campania. Tema caldo quello della sanità, soprattutto in tempi di pandemia. Caldoro respinge al mittente le accuse di chi gli attribuisce la chiusura degli ospedali in Irpinia durante il suo mandato. Non ho mai chiuso nessun ospedale, come è noto. Mi dispiace che si fa questa domanda sapendo che non è vera. Bisaccia è stata chiusa da Bassolino e da De Luca, 2009. Io non c'ero nel 2009, da direvi sulti, no? E Bisaccia io l'ho riaperta con l'ospice, come sapete, quindi ho riconvertito, ho riaperto ospedali che la sinistra, il Partito Democratico e il Partito di De Luca avevano chiuso. Tra i bersagli preferiti c'è De Mita. Pesa ancora il tradimento del cosiddetto patto di Marano, cinque anni fa, quando il leader di Nusco, in una notte, dice Caldoro, passò dal centro-destra al centro-sinistra. Com'è possibile stare cinque anni in un'amministrazione e tradire l'ultima notte? Scusate, ma come lo chiamate? Il vecchio De Mita ha parlato ieri in maniera molto chiara, dicendo De Luca l'ho eletto io. Insomma, credo avete letto nei secondi giornalisti stamattina, no? Che cosa ha detto il vecchio De Mita ieri? Ha detto De Luca l'ho eletto io. Vuol dire che in quella notte il tradimento ha portato a De Luca la vittoria. Ma quando parti la vittoria è un tradimento della lealtà ed è legato a un patto che in una notte che cosa può avere come risultato? Se non la gestione, la sanità, la spartizione, no?